Salve a tutti ragazzi, questo è OkParla e bentornati a un altro episodio degli errori nei film Pokémon! Sìììììììììììì! Nello scorso episodio non ce n'erano, nell'ottavo film, ma ora sì! E sebbene siano pochissimi, faccio comunque il video perché è la serie e quindi si continua, no? Non si smette mai! Quindi, onda evitare problemi nel senso di rallentare apposta per far durare il video di più, per fatturarvi più... non sia mai. Scherzi a parte, cominciamo subito con questo episodio. Il film in questione è Pokémon Ranger e il Tempio dei Mari, se non l'avete capito. Via. Quando Manafi da uovo utilizza Cuor Baratto per cambiare, per barattare appunto la mente con il Team Rocket, nella versione giapponese, Miao dice che sta parlando con la voce di James, ma in realtà sta parlando con la voce di Jesse. James dice che sta parlando con la voce di Jesse, invece parlerà con la voce di Miao. E Jesse dice che sta parlando con la voce di Miao, invece sta parlando con la voce di James. Ma che casino è questo? Ma come vi permettete! Scusate, scusate. Quando ci fu una visuale a occhio d'uccello del giovane Jackie, di quando praticamente era circondato dai Pokémon, si potranno vedere che le lunghe piume sulla testa di Altaria, o Altaria, non so come si dice, scusate, Altaria o Altaria, io dico Altaria perché è più bello, erano bianche anziché essere di un normale blu. Quando Ash mette Mei nel, come posso tradurlo correttamente, bozzolo della vita, praticamente il bianco e il rosso della bandana di Mei sono storti, sono invertiti per alcuni frame. Quindi ragazzi, questi erano gli errori, come avevo detto ce ne erano pochissimi, ma la serie deve andare avanti. The show must go on! Qualcuno di famoso l'ha detto, adesso non mi viene in mente, scusate. E allora grazie veramente a tutti quanti ragazzi per aver visto fino alla fine quest'altro video. Qui è stato Teo e se volete supportare il canale, iscrivetevi al canale e mi raccomando lasciate sempre un bel mi piace, lo apprezzo veramente tanto. Inoltre, se volete continuare a rimanere aggiornati sui video, foto che pubblico, ho qui sotto i miei social, tra cui Facebook, la pagina Facebook ovviamente, Instagram e un gruppo Telegram dove possiamo parlare tutti quanti. Quindi ragazzi, alla prossima e buona vita a tutti quanti.